Dopo la prima edizione del 2008, anche quest'anno, Catania ospiterà Pronto Intervento Expo, il salone specializzato per la protezione civile. A questa vetrina espositiva parteciperanno aziende specializzate nel settore e parte del sistema di protezione civile regionale. Un programma ricco di eventi riempirà le tre giornate della manifestazione, previsti convegni ed incontri scientifici, per trasformare l'appuntamento anche in un momento di confronto, studio ed approfondimento sul tema della protezione civile. Io ritengo che questa manifestazione abbia degli sviluppi sul territorio propositivi e utili, quindi senz'altro mi aspetto che vengano in fiera non solo gli operatori del settore, basti pensare a tutte le associazioni che ci sono in provincia di Catania, ma anche la società civile, voglio dire il pubblico di visitatori, che potranno così vedere quanta passione, quanto impegno c'è in questo settore. Abbiamo realizzato, con Pronto Intervento Expo, un punto di riferimento in Sicilia, ancora meglio qui a Catania, nella nostra città, e diventa così interessante. In questo momento in Italia sono diverse le fiere, ma non tantissime. Appunto, come dicevo prima, Pronto Intervento Expo si ritaglia un suo spazio per quanto riguarda la Sicilia, ma possiamo dire anche il sud Italia.